Guarda il video fino alla fine per vedere l'ultima quinta evoluzione di Shinsonic ragazza. Guarda fino alla fine per vedere la quinta evoluzione lampo dell'amico arcobaleno. Fratelli, sì, dobbiamo entrare in questo parco giochi e scivolare dalla diapositiva estrema. Controlla prima la tua altezza. Facile. Non puoi andare. O.M.G. Bene. Io accanto. Vai. Ottimo. È così triste e non poter divertirsi con loro. Oh, ragazzo incondotto. Hai qualcuno mi ha colpito. Oh, primo ragazzo. Devi usare il nostro parco giochi. Aspetta un attimo. Scegli uno. Voglio il verde. Andiamo. Scivolo. Divertiti a... Dove sono? Faccia da anatra o piccoli? O no. Odio i cetrioli sott'aceto. Non è divertente. Inferno o alto? Alto. Non è buono. Vecchio o giovane? Giovane. Sono un brutto bambino. Sbalzo. Sono troppo spaventoso. Fuoco o essere buono? Buono. No. Voglio essere buono colpa mia. Non cattivo. Cosa mi hai fatto? Ah, questo è solo il tuo primo livello. Fammi entrare. Vai. Fratelli. Fratello. 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 Mi avete lasciato prima del tempo per la punizione. Ragazzi, volete scivolare? Ume cosa? Questo non sembra buono. Non mi interessa. No. Ah. Dove sono? Slime. Oh no, ho dell'acqua in bocca. Sono la regina. Blu o verde? 100% blu. Oh my god! Wow, sembro blu. Grande o piccolo? Grande. Nessuna differenza. Pericoloso o no? Pericoloso. Non voglio sembrare così. Carino o brutto? Brutto. Carino. Tempo di teletrasporto. Sì, Shrek. Denti di squalo. Arancione o senza occhi? 100% arancione. Aiutami. Aiutami. La mia testa. Mani di Gekko. O faccia spaventosa. Gekko. Abbaio. Lava o acqua? Lava. Ok, sembro spaventoso. Roblox o mani? Mani. Oh my god! Wow, wow. Grassoccio o magro? Cosa è questo? No, occhi grandi. I miei occhi vedono tutto. Oh my god! Viola o blu? Viola. Mi piace. Mani lunghe. E gambe lunghe. Ok. L'ultimo. Vivi nelle fogne o in un McDonald's? Fondo. Andiamo. Oh no, ci ha cambiato per sempre. Mamma. Mamma. Oddio. Che cos'è questo? Ci cambia. Sì. Sembri brutto. Dove sono i nostri figli? Dieci anni dopo. Primo giorno di scuola. Ah, sembrano strani. Cosa? No, per favore. Per favore no. No. Per favore. È ora di passare al secondo livello AA. Andiamo. Sento qualcosa. Ah, ora che? Wow, è stato pazzesco. Dobbiamo arrivare al livello successivo. Aspetta. Se volete il prossimo livello, dovete trovare le porte. Oddio. Lo troverò io per primo. Eccoli qui. Entriamo. Sto avendo problemi. È stata una cattiva idea. Muscoli grandi o capelli di Chad? Muscoli. Gambe lunghe o testa grande? Gambe lunghe. Forte, forte. Sono troppo grande. Essere un Gigachad o avere la mano più grande? Gigachad. Aiutami. Denti affilati o grasso? Sono troppo forte. Devo essere grasso. Grande cervello. Sono in forma. È il mio turno. Penso che sia qui da qualche parte. Mi dispiace. Eccoli qui. Aspetta. Questi non sono i miei. Muoviti dal mio cammino. Tempo di entrare. Eccoli qui. Oh no. È ora di entrare. Sono pronto. Ah, sei l'unico noob che non ha avuto l'evoluzione. Non riesco a trovarlo. Meglio fare presto. Agli fratelli. Aspetta, vedo. Eccoli qui. Ah, ora che. Metti mi piace e iscriviti e domani ti sveglierai con così tanti Robux. Oh no. Oh no. Oh no. Ehi, cosa sta succedendo? Insegnante. Mi dispiace. Vieni alla lezione. Adesso. Ok, ti diamo A, E o ti caccio dalla scuola. Figlio, vieni prima. Ciao papà. Era estremamente intelligente. Odiava gli studenti stupidi. Figliolo, chi pensi che sia stupido? Loro. Bravo ragazzo. A, E. Amava suo padre perché gli dava A e tutti i giorni. Questo è così dolce. Prendi questo A, E. Grazie papà. È stato trattato meglio perché suo padre è un insegnante. Non è vero. Io ti tratto allo stesso modo. A, E. Ok, è il momento della parte negativa. Aveva la rabbia. Aspetta cosa? Cosa mi hai fatto? Cattivo. Era sempre il più alto nella stanza. Io sono il più alto. No, io. Non puoi essere più alto di me. Cattivo. La sua ultima evoluzione sarà la cosa più spaventosa che abbiate mai visto. Mostrami. Non posso, ma posso spaventare. No. Mi hai spaventato. Ti caccio dalla scuola. Ah, chi è il prossimo? Per favore non io. Vieni blu. Era disgustoso e le ragazze scappavano da lui. Ciao ragazze. Brutto. Tu. Smettila di spaventare le nostre studentesse. Cattivo. Il suo alito uccide le persone. Mostrami. Disgustoso. Non sa leggere. Il suo cervello è piccolissimo. Ah, che cervello piccolo. Calcio. Ne sono rimasti solo due. È il più veloce della scuola. Fammi vedere. Ok, è davvero veloce. Bene. Mi piace a E. Grazie. I suoi voti sono FFFF e F. Bravo. Per questo motivo. Devo darvi un calcio. È diventato un bullo dopo essere stato vittima di bullismo. Oh no. È troppo. Calcio. Ultimo. Sembri un nerd. Mi dispiace. Ah. Fermati per favore. Era estremamente solo. Era estremamente stupido. Oh my god. Non piaceva a nessuno e non aveva amici. Calcio. Aspetta perché. E siamo chiusi. Il poliziotto sta dormendo. È ora di uscire. È vero. Chiave. Tempo di aprire. Sono scappato. Trova il mio adesso per favore. Ok. Oh no. Sta dormendo. Tornate indietro. Ma... Apri velocemente. Sì. Sono due rimasti. Non scapperai dal carcere. Oh no. Sta arrivando. Ehi. Ecco la chiave. Fermati adesso. Criminale. Ok. Calma. Ah. Ti ho preso. Salto di popcat. Ok. Usciamo. Ok. L'ultimo. Dove è la mia chiave? Ehm. Guarda nei ruote. Bro. Usciamo. Ah. È tempo per il prossimo livello. Ok. Siamo grandi. Ma come possiamo ottenere la prossima evoluzione? Ehm. Cos'è questo? Se vuoi una nuova evoluzione devi raccogliere tutte le mascotte. Sono davvero difficili da trovare. In bocca al lupo. Aspetta un attimo. Aspetta cosa? È il momento di trovare tutte le mascotte. Vieni da papà. Ah. Sembrano strani. Oh. Ho dolore ma l'ho presa. OMG. Vogliamo questa evoluzione. Qui. Sono troppo grande. Un'ora dopo. Finalmente. Ok. Andiamo. Qui. L'ho preso. Oh. 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 Oh mio Dio. La mia evoluzione è spaventosa. Oh mio Dio. Eccolo qui. Se vuoi combattere contro di me. Facile. Wow. Ok. Ho la sfida più difficile. Ah. Noob. Non hai l'evoluzione. Ah. Noob. Non hai l'evoluzione. Ah. Non hai l'evoluzione. Ehi. Fermati. Wow. Prendilo. Ehi. Prendilo. Mai. Come? Come? È facile. Salta semplicemente. Il giorno dopo. Creature selvagge stanno distruggendo Brookhaven RP. Si. Si la polizia dovrebbe fare qualcosa. Quindi non uscire. Ehi. Dovremmo divertirci sul parco giochi. Sivolo. Sei arrestato. Cosa? Il giorno dopo. Ok. È il momento di giudicarvi. Stava catturando le persone alle porte e poi le distruggeva. Stava schierando mostri dalle sue porte per uccidere le persone. Ha preso mille anni di carcere e poi è fuggito. Ok. Per me è disgustoso. Rosso. No per favore. Ah. È il tuo turno. OMG sei così grande. Erano controllati dal dottore. Sono fuggiti dal carcere trovando tutte le chiavi. Yeah. Sono diventati da neonati a mutanti. Ok. Il mio verdetto è. Devi trovare l'amico rosso e distruggerlo per quello che ti ha fatto. Cosa? Grazie. Cinemi e tutti gli Shin Sonic sono andati in gita scolastica e hanno avuto un incidente. Quale bambino sarà buono? Cinemi o Shin Sonic o PopCut? Guarda fino alla fine. È ora. Lo porterò all'allenamento. Evviva. Salta oltre questo. Ok. Saltiamo. Principiante. Wow. Sono più forte. Wow. Ce la sto facendo. Vieni qui. No. Ultimo salto. Fatto. Get over here! Oh my God! Sono così forte. Dopo la radiografia sei a posto. Cosa? Noni? Mamma hai sentito quello. Ahahahah! Ti sto rapendo. No! God! Please no! Ah! Torna indietro. No. Aspetta dove sono. Questa è una gara. Wait a minute! Oh my God! Mio Dio. Voglio tornare da mia madre. 3 2 1 Inizia. Wow. Wow. Sono più alto. Cos'è questo? Ah. Sono P.B.A.S. Così vicino. Rosa o pistola fratello. Cos'è quello? Oh my God! Smettila di sparare. Oh my God! Lei vincerà. Wow wow. Ah zombie. Impossibile! Scarte! Le mie gambe! L'ultima! Vado per primo! Mio dio! Wow! Scegli me! 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 Oh mio dio! Scegli me! Scegli me! Scegli me! Lui è cattivo! Ti scelgo! Sì! No! Wow! Dove siamo? Puoi aiutarmi a scegliere! Wow! Per favore buono! Fammi vedere cosa hai fatto! Hai hackerato molte persone! Aspetta questo è davvero brutto! Il prossimo! No no no! Stava picchiando il suo ragazzo! È vero tubers? Sì! Mio dio! Smetti di mentire! Sei una cattiva persona! L'ultimo! Non riusciva a smettere di mentare! Ok questo non è male ma sei comunque cattivo! Ciao! No! No! Metti mi piace e iscriviti prima che quei robux spariscano dallo schermo! Oh ciao! Dove sono? Mostrami le tue azioni! Stava rapinando banche! Amico! Restituirò i soldi! È troppo tardi! Mostrami la prossima cosa! Amava Harley Quinn! M! Va bene! Lo amo! Mio dio è bello! L'ultimo! Stava picchiando i più potenti! M! Ero buono! Dammi i tuoi soldi! O hai cercato di aiutare! È una cosa buona! Adoro questo lavoro! L'ultimo il più difficile! Ah povero! Cosa sto facendo qui? È il giorno del giudizio! Ti pagherò! Faceva il bullo ai poveri Bacons! Fratello perché hai fatto questo? Amo i soldi! Prossimo! Stava scorreggiando addosso alle persone! È disgustoso! Mi dispiace! Ok non è male! L'ultimo! Non usciva perché era odiato dalle persone! Non è male! Eri triste! Vai qui! Ah! Gran giorno! Ok penso di poterti dare un'altra vita! Davvero? Oh nuovo bambino! Mi hai adottato! Sì! Mostrami le tue abilità! Questo è troppo grande! Sei Debo! Bambini! Ho avuto! È stato così vicino! Perché mi trovo in questa situazione? Di notte! Prendiamo vendetta! Papà sta dormendo! Muscoli! Oh mio dio! Ecco il suo cervello! Odio questo bambino! Sta cercando di prendermi a calci! Distruggerò i suoi muscoli! Ho perso tutti i muscoli! Il mio compleanno dammi i miei regali! Un libro? Per te! Wow! Sembro grassa per te! Il mio turno! Ho trovato un fiore! Per te mamma! Cattiva! Ehi controlla la tua altezza! Va bene va bene! Io per primo! No! Perché? Sei troppo piccolo! Mio dio è il mio turno! No 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 no! No per favore! Aiutami! Invio potere a bocca! Cosa? Come? Perché? Ah! Puoi andare! Ho potere! Non può essere così! Oh no! È il tuo momento! Sono bloccato! Fa male! Non è ancora finita! Ah! 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 Dargli poteri divini! Wow! Ho le mani! Ah! Funziona! Oh! Sembro fantastico! Oh! Lasciami provare il mio potere! Wow! Wow! Ho un potere incredibile! Oh! Cosa sta succedendo? Bulli? Oh! Fratello! Non sono tuo fratello! Qui è il tuo posto! Prigione! Per favore no! Per favore no! Ah! Cosa è appena successo? Wow! E si ricomincia! La persona che perde non torna mai indietro! Wow! Prossimo! Prossimo! Ah! 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 Cosa dovrei scegliere? Ah! 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 Sei un principiante Sto scegliendo i bene È ora di giudicare Catturava i criminali più ricercati È fantastico È stato licenziato dal lavoro È stato licenziato O no Ma non è male È stato arrestato e ha formato una gang L'ultimo ha formato una gang lol Ma va bene Chi è il prossimo? Figlio, per favore, ero buona Mio Dio, mamma Mai Ciao Ok, ho finito il mio love Shin Sonic, ragazza, è diventata la Shin Sonic più popolare E tutti i personaggi vogliono catturarla e distruggerla Dammi i tuoi figli Lo sento Il giorno dopo Finalmente ti ho trovato E ragazzo, ti adotterò Misuriamo Sei quasi come una modella Faremo un sacco di soldi da te Guarda cosa ho trovato Cos'è questo? Non riesco a respirare Prenditi cura di lui Sorella Ti odio Cosa? Sono nella sabbia Aiuto Questo No, per favore È il mio incubo Ciao È troppo No, per favore Nuà Non sarai mai alto come me Non so nuotare Tocco a me Aiutami, non ho ossigeno Lo squalo sta arrivando Dove è mio figlio? Basso Nub Dobbiamo fare un'operazione in fretta Morirà Non mollare Stanno facendo l'operazione Cos'è questo? Blue Wow Spaventoso o carino? Carino Oh no, no, no Sono spaventoso e brutto Sta morendo Magro o grasso? Magro Lingua lunga Guarda mi sto peggiorando Denti paurosi Bello Calvo Ochi Un occhio Sembro disgustoso Mamma sono tornato Stai diventando più alto Stai diventando più alto Quasi morto Misurati Oh my god Oh Hell no Sei brutto Cinque anni Ah, sono vecchio Tempo di trollare Happy Il prossimo è l'orso Cosa è successo? Sentò qualcuno Oh no Mi dispiace Stai andando al riformatorio No per favore sorella Ah ciao Sfigato Mio dio non sembra male Ah così debole Oh my god Forse no Ciao Sfigato Sfigato Oh no Ah Get over here Ah Incoming Non so nuotare Aiuto Ti annegheremo Oh no Ah M dove sono Stanze nascoste Mio dio Devo nascondermi What? Tempo di mangiare No. Em, devo uscire. Mangiami, sono debole comunque. Non posso aiutarti. Cosa? Sei tornato. Sì. Iscriviti e metti mi piace se vuoi Robux gratis. Torneo per il miglior modello. Non può essere così. Ah, perdenti. Adesso mamma. Ah, ho vinto. Uff. Salta oltre questo per essere più alto. Sì. Andiamo. Wow. Bello. Bello. Wow wow wow. Cosa sta facendo? Non può essere così. Ragazzi andiamo. Vieni qui. Vieni qui. Sarò più alto di te. Arrg no. Ah, hai perso il razzo. È pazza. Lui capo. Ah. Non mollare Pockat. Va bene capo. Oh my god. No. Ah, andiamo. Cos'è questo? Oh my god. L'ultimo. Oh my god. Loni. Wow. Sorella dove sei? Perché? Ah. Non può essere così? 15 anni. Ho perso le gambe. Sei ancora piccolo. Ma ero alto. Sta mentendo. No, non lo sono. Stai andando in prigione. Non ti vogliamo più. Torna se sei più alto. No, per favore. Ah, piccolo prigioniero. No. 25 anni. Non mi batterai mai. Piccolo. Facciamo un torneo. Ok. Tempo di saltare. Miramene. Oh my god. Ah, sono più alto di te. Cosa? Ehi. Cos'è questo? Questo torneo è solo per quattro persone. Ciao. Ehi. Abbarate. Non mi interessa. Inizio. L'ho preso. Ehi. Ehi. Ah. Prossimo difficile. Prima io. Ah. Ora cosa? Cosa? Andi. Grazie per il boost. Oh my god. superare la linea attraversare la linea no ho vinto a cosa perché non ci posso credere non può essere così oh no l'ho ucciso dove sono dio oh ciao pocca oh mio dio ciao stava aiutando la madre malata ha mangiato il suo migliore amico questo secondo non è quello che pensi era un bullo ok prendi il mio potere sono fuori grazie primo vediamo cosa hai fatto si prendeva cura di sua madre wow è bello aveva poteri speciali anche questo è bello davvero grazie stava tirando i bambini nella bocca d'aerazione mangiava bambini grassi o no 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 mai vai qui prossimo tipo verdei ehi catturava e mangiava bambini era troppo alto e colpiva lo stipite della porta distruggeva tutti i giocattoli si innamorava di mamma gambe lunghe wow quest'ultimo strano davvero davvero era cieco quindi non mi vedi sì vai qui non posso metterti nel rosso ehi è rosso non vedo no dai ultimo il mio allenatore ciao per favore paradiso amava i cani era il più veloce del mondo rubava scarpe e ci metteva del tnt ehi è male mangiava i partecipanti per vincere nelle competizioni di corsa anche questo è male amava i giocattoli devo mandarti in paradiso grazie no ero cattivo sei il mio allenatore ma ero cattivo non farlo qui è il mio posto è stato triste ma l'ha fatto quale bambino starà bene sin sonic ragazza o pop cat guarda fino alla fine questa è una gara mio dio voglio tornare da mia madre 3 2 1 inizia wow wow sono più alto cosa è questo sono pbias o no così vicino rosa o pistola fratello cos'è quello smettila di sparare hija lei vincerà Me? 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 Wow wow Ah zombie Impossibile, scarte Le mie gambe L'ultima Vado per primo Mio dio Wow Scegli me, scegli me, scegli me, scegli me, scegli me, scegli me, scegli me Oh mio dio Scegli me, scegli me Lui è cattivo Ti scelgo Si No Wow, dove siamo? Puoi aiutarmi a scegliere Wow Per favore buono Fammi vedere cosa hai fatto Hai accerato molte persone Aspetta, questo è davvero brutto Il prossimo No, no, no Stava picchiando il suo ragazzo E' vero tubers? Si Mio dio Smetti di mentire Sei una cattiva persona L'ultimo Non riusciva a smettere di mentare Ok, questo non è male Ma sei comunque cattivo Ciao No Metti mi piace e iscriviti prima che quei robux spariscano dallo schermo Oh ciao Dove sono? Mostrami le tue azioni Stava rapinando banche Amico Restituirò i soldi E' troppo tardi Mostrami la prossima cosa Amava Harley Quinn M Va bene Lo amo Mio dio è bello Ultimo Stava picchiando i più potenti M Ero buono Dammi i tuoi soldi O hai cercato di aiutare E' una cosa buona Adoro questo lavoro L'ultimo il più difficile Ah povero Cosa sto facendo qui? E' il giorno del giudizio Ti pagherò Faceva il bullo ai poveri Bacons Fratello perché hai fatto questo? Amo i soldi Prossimo Stava scorreggiando addosso alle persone E' disgustoso Mi dispiace Ok non è male Ultimo Non usciva perché era odiato dalle persone Non è male Eri triste Vai qui Ah Gran giorno Ok penso di poterti dare un'altra vita Davvero? Un nuovo bambino Mi hai adottato Si mostrami le tue abilità Questo è troppo grande Sei devo Bambini Ho avuto E' stato così vicino Perché mi trovo in questa situazione? Di notte Prendiamo vendetta Papà sta dormendo Muscoli Oh mio dio ecco il suo cervello Odio questo bambino Sta cercando di prendermi a calci Distruggerò i suoi muscoli Ah Ho perso tutti i muscoli Eventualmente Il mio compleanno Dammi i miei regali Un libro Per te Wow Sembro grassa per te Il mio turno Ho trovato un fiore Per te mamma Cattiva Ehi controlla la tua altezza Va bene va bene Io per primo No Perché Sei troppo piccolo Mio dio è il mio turno No 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 per favore Aiutami Invio potere a bocca Cosa Come Perché Ah Puoi andare Ho potere Non può essere così Oh no è il tuo momento Sono bloccato Fa male Non è ancora finita Ah è abbastanza devo sollevare è difficile dargli poteri divini wow ho le mani ah funziona sembro fantastico lasciami provare il mio potere wow wow ho un potere incredibile cosa sta succedendo bulli fratello non sono tuo fratello qui è il tuo posto prigione per favore no per favore no cosa è appena successo wow e si ricomincia la persona che perde non torna mai indietro wow prossimo 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 sei un principiante sto scegliendo i bene è ora di giudicare catturava i criminali più ricercati è fantastico è stato licenziato dal lavoro è stato licenziato oh no ma non è male è stato arrestato e ha formato una gang l'ultimo ha formato una gang lol ma va bene chi è il prossimo figlio per favore ero buona mio dio mamma mai ciao ok ho finito il mio lavoro shinsonic ragazza mi sta inseguendo guarda fino alla fine testiamolo ho creato dei bambini bellissimi a mutiamoli fatto non mi sento bene papà vieni qui papà ancora no oddio ha funzionato il mio pennello è il migliore e ne aspetta ehi riportaci alla normalità oh orario della lezione bambini disegnatemi facile buono evviva il mio turno buono lascia che te lo disegni che cos'è questo cattivo aspetta mi dispiace ho troppo potere non disegnerò mai più niente popcat cosa hai fatto ho bisogno di disegnare fatto è la tua fine popcat oddio cosa è appena successo se ho dei superpoteri come posso fare soldi guidare attraverso quei dossi per un milione di dollari prima io ah perdenti il mio turno posso provare ah si ma perderai devo disegnare una macchina fatto wow sta volando aspetta come facile questa è impossibile ho bisogno di una nuova macchina andiamo oh mio dio ce l'ho fatta l'ultimo ce l'ho fatta non posso credere a quello che è successo ma ecco il tuo premio sono ricco sono ricco ma ne ho bisogno di più chi salterà più lontano vincerà l'intera terra oddio è questa la mia macchina sono il primo bel salto il mio turno che bel salto tocca a me perdenti buon salto tempo per me noob arriverò alla mia lambo salto intermedio ora è tempo per il bagno aspetta è troppo lento lasciate che mi disegni una nuova fatto wow oddio quasi la fine congratulazioni hai vinto la terra andiamo la polizia lui sta imbrogliando catturatelo devo disegnare una macchina fatto wow devo disegnare disegnare di nuovo fatto ok è ora di distruggerli wow ha funzionato capo cosa devo fare saltami addosso grazie 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 ora devo nascondermi perché ce ne sono altri cosa dovrei disegnare dopo boom pokat aiutami stanno distruggendo la mia fabbrica oddio oddio disegnerò disegnerò personaggi personalizzati non ti preoccupare fatto wow ora penserò a qualcosa di strano fratello che bello sta qui prossimo ah incredibile ultimi due oddio prossimo fatto wow ok attacco grazie mille pokat nessun problema ma ora sei in arresto mi dispiace cosa si fermi si fermi lì incredibile sono in prigione disegnerò la fuga bello ume ume ciao sto valutando da ora ha perso la testa e ha bisogno di qualcuno che ne disegni una nuova lo farò io bello tutti i suoi amici sono morti e ne voleva di nuovi tutti i miei amici sono morti aiutami per favore disegniamo fatto evviva prossimo stavano facendo il bullo con il giocatore e lui voleva l'ultra crucifisso per reagire mi sta maltrattando per favore disegna un crucifisso non c'è da preoccuparsi grazie grazie tutto l'uno il prossimo è zolfius si è trasformato in piccolo e voleva diventare più grande per tornare in gioco ok fammi provare fatto grazie voleva essere più grande della terra oh sarà difficile ma ce la farò ok ce l'ho fatta bene ha rubato l'autobus con i bambini di randy friends è brutto quindi ciao ciao facile ok il prossimo è stato picchiato dai bugli e voleva denti e ossa nuove per spaventare la gente disegniamo fatto wow questo è così figo ha mangiato i bambini dell'uccello opila ma poi se ne è pentito i bambini restano qui per un momento bei bambini una buona cena aspetta non mi sento così bene perché ci hai mangiato ehi se vuoi ottenere robux per i prossimi dieci giorni metti a mi piace e iscriviti ora ha cambiato il suo gioco in porte e stava inseguendo le persone con tazza smettila di inseguire le persone fratello il prossimo aveva bisogno di nuovi personaggi per il suo terzo capitolo sai disegnare i personaggi? sì ho un'idea perfetto il prossimo fatto oh no fa schifo ma lo amo aspetta a prendere il vestito grazie il prossimo fatto forse l'ultimo oh my god disgustoso che cosa hai detto? il prossimo voleva valutare ogni jump scare di ognuno da garten di bambam oggi valuterò tutti i vostri jump scares prima ahi ora tu buono prossimo ora tu ah capito non fa paura il prossimo è lo squalo spaventoso ora scream eugen l'ultimo buono wow è stato impressionante il prossimo morto voleva mostrare ogni faccia di ogni giardino personalizzato di bambam mostrerò la tua faccia nella vita reale no e me sei metà cattivo e metà buono va è libero prossimo aveva tre fratelli che avevano fatto le loro case e il lupo cattivo stava cercando di distruggerle ehi io farò una buona cena dobbiamo nasconderci nelle nostre case perché sta arrivando farò saltare in aria le loro case buono ora tu sono troppo debole finalmente l'ultimo non funziona è troppo forte sei sopravvissuto è bello voleva essere più magro perché la gente lo prendeva in giro lo farò wow grazie voleva una moglie e dei figli ok ti disegnerò una moglie e dei figli siete dei bellissimi bambini ah bello lo chef gli ha rubato i figli e ci ha fatto gli hamburger quindi li vuole indietro cibo piacevole torna indietro cuciniamoli per me sei una persona perfetta ok il prossimo è così puzzolente che quando scorreggia c'è un allarme tossico non credo che le tue scorreggie siano così cattive sei sicuro sto per morire mangia la cacca e poi fa la cacca più grande del mondo oh cos'è questo lo mangerò buono oh aspetta devo andare in bagno buono è ora è ora di lavarsi le mani che diavolo il prossimo è così disgustoso che fa la pipì sul gabinetto chiuso è ora è ora di fare pipì fatto nooo ha bisogno di sapone per punirsi perché tutti stanno morendo per il suo odore lascia che lo disegni fatto e per me fai solo schifo ma sei una brava persona prossimo aveva una cotta per Baldi e voleva che lui si innamorasse di lei per favore baciami sei così intelligente che dovremmo stare insieme ok prossimo volevano avere dei figli ultra intelligenti ok fammi disegnare fatto sei così intelligente stava dando la caccia alle persone e le uccideva e qualcuno doveva fermarla wow no 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 smettila di inseguirmi devo disegnare ok fatto ora mi hanno detto che tutto ciò che disegno diventa reale testiamolo ho creato dei bambini bellissimi a mutiamoli fatto non mi sento bene papà vieni qui papà ancora no oddio ha funzionato il mio pennello è il migliore e me aspetta ehi riportaci alla normalità orario della lezione bambini disegnatemi facile buono evviva il mio turno buono lascia che te lo disegni che cos'è questo cattivo aspetta mi dispiace ho troppo potere non disegnerò mai più niente popcat cosa hai fatto ho bisogno di disegnare fatto è la tua fine popcat oddio cosa è appena successo se ho dei superpoteri come posso fare soldi guidare attraverso quei dossi per un milione di dollari prima io ah perdenti il mio turno posso provare ah si ma perderai devo disegnare una macchina fatto wow sta volando aspetta come facile questa è impossibile ho bisogno di una nuova macchina ah andiamo oh mio dio ce l'ho fatta ce l'ho fatta non posso credere a quello che è successo ma ecco il tuo premio sono ricco sono ricco ma ne ho bisogno di più chi salterà più lontano vincerà l'intera terra oddio è questa la mia macchina sono il primo bel salto il mio turno che bel salto tocca a me perdenti buon salto tempo per me noob arriverò alla mia lambo salto intermedio ora è tempo per il bagno aspetta è troppo lento lasciate che mi disegni una nuova fatto fatto oddio quasi la fine congratulazioni hai vinto la terra andiamo la polizia lui sta imbrogliando catturatelo devo disegnare una macchina fatto wow devo disegnare disegnare di nuovo fatto ok è ora di distruggerli wow ha funzionato capo cosa devo fare saltami addosso grazie ora devo nascondermi perché ce ne sono altri cosa dovrei disegnare dopo un pokat aiutami stanno distruggendo la mia fabbrica oddio disegnerò personaggi personalizzati non ti preoccupare fatto wow ora penserò a qualcosa di strano fratello che bello sta qui prossimo ah incredibile ultimi due oddio prossimo fatto wow ok attacco grazie mille pokat nessun problema ma ora sei in arresto mi dispiace cosa si fermi si fermi lì incredibile sono in prigione disegnerò la fuga bello ume ume ciao sto valutando da ora ha perso la testa e ha bisogno di qualcuno che ne disegni una nuova lo farò io bello tutti i suoi amici sono morti e ne voleva di nuovi tutti i miei amici sono morti aiutami per favore disegniamo fatto evviva prossimo stavano facendo il bullo con il giocatore e lui voleva l'ultra crucifisso per reagire mi sta maltrattando per favore disegna un crucifisso non c'è da preoccuparsi grazie grazie tutto l'uno il prossimo è zolfius si è trasformato in piccolo e voleva diventare più grande per tornare in gioco ok fammi provare fatto grazie voleva essere più grande della terra oh sarà difficile ma ce la farò ok ce l'ho fatta bene ha rubato l'autobus con i bambini di randy friends è brutto quindi ciao ciao facile ok il prossimo è stato picchiato dai bugli e voleva denti e rossa nuove per spaventare la gente disegniamo fatto wow questo è così fido ha mangiato i bambini dell'uccello opila ma poi se ne è pentito i bambini restano qui per un momento dei bambini una buona cena aspetta non mi sento così bene perché ci hai mangiato ehi se vuoi ottenere robux per i prossimi dieci giorni metti a mi piace e iscriviti ora ha cambiato il suo gioco in porte e stava inseguendo le persone con tazzo smettila di inseguire le persone fratello il prossimo aveva bisogno di nuovi personaggi per il suo terzo capitolo sai disegnare i personaggi? sì ho un'idea perfetto il prossimo fatto oh no fa schifo ma lo amo aspetta a prendere il vestito grazie il prossimo forse l'ultimo oh my god disgustoso che cosa hai detto? il prossimo voleva valutare ogni jumpscare di ognuno da Garten di Bambam oggi valuterò tutti i vostri jumpscares prima ahi ora tu buono prossimo ora tu ah capito non fa paura il prossimo è lo squalo spaventoso ora scrimme Eugen l'ultimo buono wow è stato impressionante il prossimo morto voleva mostrare ogni faccia di ogni giardino personalizzato di Bambam mostrerò la tua faccia nella vita reale no e me sei metà cattivo e metà buono va è libero prossimo aveva tre fratelli che avevano fatto le loro case e il lupo cattivo stava cercando di distruggerle ehi io farò una buona cena dobbiamo nasconderci nelle nostre case perché sta arrivando farò saltare in aria le loro case ah buono ora tu sono troppo debole finalmente l'ultimo non funziona è troppo forte sei sopravvissuto? è bello voleva essere più magro perché la gente lo prendeva in giro lo farò wow grazie voleva una moglie e dei figli ok ti disegnerò una moglie e dei figli siete dei bellissimi bambini ah bello lo chef gli ha rubato i figli e ci ha fatto gli hamburger quindi li vuole indietro cibo piacevole torna indietro cuciniamoli no 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 non sotto i miei occhi per me sei una persona perfetta ok il prossimo è così puzzolente che quando scorreggia c'è un allarme tossico non credo che le tue scorreggie siano così cattive sei sicuro? sto per morire mangia la cacca e poi fa la cacca più grande del mondo oh cos'è questo? lo mangerò buono oh aspetta devo andare in bagno buono è ora di lavarsi le mani che diavolo il prossimo è così disgustoso che fa la pipì sul gabinetto chiuso è ora di fare pipì fatto nooo ha bisogno di sapone per punirsi perché tutti stanno morendo per il suo odore lascia che lo disegni fatto e per me fai solo schifo ma sei una brava persona prossimo aveva una cotta per Baldi e voleva che lui si innamorasse di lei per favore baciami sei così intelligente che dovremmo stare insieme ok prossimo volevano avere dei figli ultra intelligenti ok fammi disegnare fatto sei così intelligente stava dando la caccia alle persone e le uccideva e qualcuno doveva fermarla wow 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 no 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 smettila di inseguirmi devo disegnare ok fatto ora il riccio blu è diventato l'ho ripreso dalla telecamera mentre visitava casa mia e mi toccava mentre dormivo il riccio blu è a casa mia mi dispiace volevo baciarti aspetta non sono hai sbagliato persona hai sbagliato persona abbiamo bisogno riccio blu cosa sta succedendo è la mia casa devo andarci oddio cosa sta succedendo qui riccio blu bevi questo ah no mai dammi quello no ora esploderò oddio cosa è successo qui perché tutti sono bambalena questa pozione ci ha trasformato in bambalena e ora devi scoprire chi di noi è il riccio blu oh my god bambam quale pensi sia la tua ragazza questo posso sentirlo non credo era stinky joel l'hai baciato no 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 quindi abbiamo ancora 10 bambalenas ora dobbiamo controllare le vostre voci prima bambalena wow bellissima prossimo e ricordati che le risposte sbagliate saranno punite molto duramente ok non sospetto prossimo ciao dove ti stai nascondendo per favore fa male sono forte um non suona esattamente come bambalena ma va bene prossimo ascolta se riesci a sentire quello che sto dicendo fai un cenno a qualsiasi telecamera cosa voce maschile sei un sospetto prossimo quindi ci incontriamo di nuovo dove sono i miei figli prossimo sto venendo in questo posto e poi mi viene ricordato che tutto per cui sto lottando vale tutto lo spazio e la sofferenza sospetto sospetto prossimo mi ha portato in bagno questo era strano prossimo piacere di conoscerti un penso che tu sia malato prossimo sei stato uno studente cattivo bene bene ultimi due cosa ok questo è opila ma l'ultimo ok questo sembra normale quindi tu stai uscendo avevo ragione avevo ragione sono rimaste solo nove bambalena quindi ora devo controllare i vostri spaventi numero uno ok bene prossimo non male sembra reale ok questa persona era sospetta prima attaccami dove pensi di andare? wow era come bambalenas non sei più un sospetto prossimo ahia la mia testa era reale prossimo ora tu cosa era quello? non è bambalena fai di nuovo il secondo era reale prossimo la mia testa ma era uno spavento molto sospetto prossimo di nuovo oh fratello perché hai lo spavento di nab nab? perché il dottore ha cambiato il mio cervello sospetto prossimo unne spavento incredibile mi piace sei reale prossimo cosa era quello? lo spavento di fiddles sospetto prossimo tu lo sai ahia perché lo spavento di bambam? oh ho appena cliccato il pulsante sbagliato era ancora bambam stai venendo eliminato ah era bambam ops ok prossima categoria disegnati ora ok fatto non sono bravo a disegnare facile non un bel disegno prossimo non il migliore ma ok prossimo wow prossimo prossimo wow buono prossimo brutto sei un sospetto prossimo hum perché c'è un stinger film? cosa? hum e nulla strano prossimo buono wow hai dipinto un modello 3D e l'ultimo hum scerifo che diavolo mi dispiace ma stai venendo eliminato ciao ciao ah avevo ragione non ne restano molti prossimo devi disegnare la tua cotta facile mostrami ohio bambam prossimo bene ok prossimo cosa? figo prossimo bambino ma bambam quindi ok prossimo bambam malvagio bene questa è la mia cotta aspetta cosa è questo? hum e tu? ragazzi siete sospetti da ora ma ora bambalena era molto forte quindi colpisce questo muro oh oh my god ah non è il migliore prossimo oh my god quello blu bambalena era molto meglio prossimo quello rosso lascia mi pensare meglio del precedente viola e arancione perché questo? viola molto bene ma arancione questo è brutto no 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 ne restano tre facciamolo vai siete al sicuro ragazzi mi dispiace fratello ma sei falso per favore no Stinger Flynn quindi ne restano solo sette ok quindi ora ho una domanda quando Jambo Josh ti ha colpito e afferrato dove sei andato? la risposta corretta è nella stanza su andate non sono due porre di sangue siamo andati a un appuntamento stavamo bevendo caffè per favore lasciami in pace wow mi chiedo dove l'ha portata sembra reale ok quindi ora tu lo stesso data ok lasciami pensare mi ha portato per l'operazione e voleva cambiarmi ah è ora di cambiarti ah perfetto un strano ok tu mi ha portato a Umme in prigione cosa non credo sia corretto ok tu data prossimo mi ha portato fuori per un appuntamento ok tu mi ha portato in bagno cosa metti like e iscriviti o Bambalena sarà nel tuo bagno fratello sei un sospetto e l'ultimo si ok non riesco ancora a scegliere chi uccidere quindi ora Bambalena era molto veloce benvenuti al torneo finale siete pronti si si wow è così veloce prossimo e prossimo e prossimo ok vediamo chi ha vinto bravo sei stato veloce e aspetta perché ne manca uno mio dio mi dispiace ma devo ucciderti ciao Lumaca Selene Bambalena era intelligente quindi ora risolvi questo quesito vieni una mela più una mela equivale a due mele hai ragione bene prossimo pomodoro più acqua equivale a zuppa di pomodoro hai ragione sei legittimo prossimo aereo meno carburante per auto equivale a boom wow sei così intelligente prossimo è così facile è zuppa di pomodoro no cosa assassino più coltello equivale a morto non sei bambalena ciao Zolfius non bene ma abbiamo solo 5 bambalene rimaste ok quindi disegnati e poi diventa quello tu per primo fatto wow sembra bambalena ok quindi ora per il prossimo facile fratello aspetta cosa è questo sei un sospetto ok dopo un sospetto il prossimo andiamo bambalena più nabnab molto strano ma ok ora tu cosa è questo Zolfius più bambalena prossimo facciamolo cosa è questo fratello stai ricevendo una spilletta di sospetto quindi ora bevi questa pozione e vedremo la tua forma mutata mostrerà chi è reale e chi no vado per primo potresti essere bambalena ok quindi il prossimo questa pozione l'ha eliminata fratello ok quindi il prossimo grande prossimo mio dio questo è sospetto hai il corpo di nabnab quindi il prossimo questo è falso era coach pickles mi dispiace ok quindi abbiamo solo 4 bambalene ok quindi ora ragazzi voglio vedere cosa avete fatto nella vostra vita cominciando con il primo lei era super forte perché sei così forte ah sono sempre stato così ok questo era corretto bambalena è forte prossimo la radiografia mostra che all'interno del costume di bambalena ci sono due persone ok ora vediamo cosa c'è dentro di te cosa due persone ok questo è sospetto due persone sono in pigster lei ha ucciso bambam perché era con nabnablena ok bambalena potrebbe essere gelosa di bambam è corretto lei era innamorata di pigster aspetta tutto questo mi dice che sei un pigster avevo ragione ah ne restano solo 3 lei è stata morsa da bambam e poi ha perso la mano è vero e corretto prossimo lei era ultra intelligente e ha risolto un milione di problemi matematici questo è il problema matematico più difficile del mondo 2 più 2 4 mio dio sono così intelligente sei intelligente come bambalena era molto lenta come una lumaca era come una lumaca quando camminava mostrami come cammini mio dio è la cosa di lumaca serine strano prossimo lei puzzava bella cena bambalena non mi sento così bene oddio cosa mio dio è come stinky joel aveva un sacco di peli sul corpo ed era disgustoso che diavolo strano aveva una grande pancia perché amava mangiare fratello stava spaventando i nerd siete tutti nerd odio i nerd attacco ok prossimo lei era la cotta di tutti anche di adam di lankybox si è vero tutti amavano bambalena aveva dei bambini con bambam mostrameli wow sono dolce è stata colpita da jammo josh ti amo qualcuno mi ha allungato mamma papà popcat mi ha trollato che cosa per favore non parlare devo imparare wow wow sono intelligente secchione secchione perché hai trollato tua sorella cosa mi ha fatto male non ero io non ti credo inizia a sollevare aiutami di note le mie ossa aiuto genitori dove sono guarda cosa gli hai fatto se perdi sei fuori dalla nostra famiglia ma non ero io sei stato tu inizia o mi ha rubato il mio non può devo imparare wow l'ho fatto fammi imparare dove hai il suo punto debole qui ah difficile cosa non piace ai king com vita facile vediamo come saltare più in alto bello sta arrivando godzilla ah l'ultimo non può essere così per favore no non ero io davvero ti odio non tornare più la notte successiva sono troppo alta genitori sto chiamando la polizia sono così triste sei arrestato cosa non funziona dimmi cosa hai fatto non lo so come niente stai allungando la gente di notte è falso no prigione sono troppo intelligente uscirò guarda ha perso la chiave facile facile veloce ahi è stato disgustoso sei troppo intelligente dove mi hai portato dobbiamo renderti stupido no ti prego no sono così stupida non so come camminare non può essere così devo imparare wow matematica ehi cosa abbiamo bisogno di te e che cosa hai fatto mi dimetto da questo lavoro oh ok ok prima di tutto Hulk non ho fatto niente oh my god ok OMG fratello vediamo cosa hai fatto è stato catturato mentre distruggeva edifici mostrami il filmato qui signore grazie fratello ridammi mio figlio mai dai ridammielo no mi piace e sottoscrivi la casa uguale per questo bambino wow era triste stavi cercando di salvare tua figlia grazie ha bevuto la pozione ed è diventato verde aspetta questo è davvero brutto vai qui ha vinto un gioco di tiro alla fine con i calamari grazie ai suoi muscoli va bene sei libero bello il prossimo è difficile OMG gru e i minions cosa liberi lasciateci liberi ha rubato la luna questo è male usciva con le ragazze minion e m questo è strano brutto cosa ha sganciato una bomba nucleare sulla terra aspetta questo è super cattivo fratello e l'ultima cosa ha fatto uscire il virus dal baratono con il dottore aspetta è vero si OMG no ehi vai in prigione no si dammi la prossima il prossimo BB cosa OMG sembra un'immagine diciata lasciami in pace smettila vediamo cosa hai fatto stava creando i bambini è ingiusto smettila di farlo ha un coltello in tasca stava scavando sotto la prigione hai scavato sotto la prigione no prendetela ehi torna indietro mai per favore mio bambino è triste oh è triste vieni con noi troveremo una casa per il tuo bambino ma tu andrai in prigione OMG questo lavoro è difficile amici dell'arcobaleno ho sentito parlare di te io sono buono hai iniziato a sparare al supermercato wow è troppo il prossimo ato ha dato fuoco alla sua scuola fratello smettila questo è male il prossimo ha punito l'insegnante con un trucco orribile e i capelli bruciati sei cattivo vai nella tua cella sei libero per questo grazie finalmente devo imparare di più wow è molto ok sono pronto genitori statisticamente è impossibile che sia tornato non mi importa torna quando sarai più forte ok ok OMG devo allenarmi come un professionista wow sta funzionando ora il mio cervello dice di sollevare cominciamo wow il prossimo wow guardami difficile ma funzionante ce l'ho fatta l'ultimo ah lavorare come sempre perché ti sta facendo questo? genitori ora posso risolvere chi sta facendo questo wow sì di notte ok bello dormire e mi nasconderò qui sei dolce è ora di prenderlo torna indietro ah ti ho preso dove è andato? sto entrando vieni qui dove sono? ehi è scapato vediamo cos'è questo la vita dell'amico arcobaleno dacci i tuoi soldi ragazzo no aiuto ah ehi fermati oh mio dio grazie vuoi essere la mia ragazza? sì vuoi sposarmi? mi prendo i tuoi figli troveremo i nostri figli non preoccuparti wow questa storia era triste ma ho perso lui oh mio dio omg lei è così alta aiutami è troppo sto richiamando la polizia no per favore non se ne parla il mio vecchio lavoro ciao sono un uomo davanti alla finestra ha rotto le ossa ai bambini male 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 si fermava davanti alle porte delle persone per ore e le fissava e è strano ma va bene l'ultimo si è sbraiato facilmente sotto il letto del bambino strano e illegale andrai in prigione il prossimo non c'è modo vieni qui gargamella e i puffi si hanno attaccato la città dei piccoli puffi fecero una zuppa di puffi ha schiacciato le case dei puffi con il suo piede ok sei una persona cattiva ma tu sei libero bello oh no genna vieni qui smettila di baciare aiuto ok vediamo aveva una cotta per popcat e ne mi sento strano a bene ha hackerato il computer di popcat stava insultando in un gioco per bambini bello bello vai in prigione puoi andare no ah è ora di risolvere l'ultima domanda ho lavorato su questo per così tanto tempo e so come prenderlo ah no non l'ho fatto io siete arrestati ciao a tutti ti io ho preso quindi ora devo giudicarvi ma prima non ho fatto nulla di male are you sure about that aggrediva i bambini all'asilo truffava la gente per soldi non è un bravo ragazzo non mi interessa stop lui impiega illegalmente dei bambini per lavorare per lui dio mio sei una persona cattiva fratello prossimo prendevano i giocatori e li schiacciavano è vero questo no no si lo era no è il femma cattivo invitavano le persone alla fabbrica bene cambiavano le persone in giocattoli oh my god oh no molto male andrai in prigione no no oh no il giocatore è il prossimo sei stato in prigione si mi dispiace faceva il bullo a ugi wagi non bene mi dispiace questo è per te oh grazie questo è stato bene apriva le porte con il suo grab pack ha gettato papà e mamma long legs in una tritta carne non sei così cattivo sei libero sei libero ok solo due rimasti ciao sono un mangiatore di treni attaccava i nemici ai binari e li faceva investire dio era brutto fratello non bene non bene mi dispiace vediamo il prossimo demoliva gli edifici te che non lo so no 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 lie no 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 lo fermati sei cattivo sei super cattivo qui è l'ultimo perché hai fatto questo? posso mostrarti vuoi vedere la mia faccia? si Questo è il mio... Ho mandato Shin Sonic in paradiso o all'inferno Guardatelo fino alla fine Questa è una gara Oh my god Mio dio Voglio tornare da mia madre 3 2 1 Inizia Wow Sono più alto Cos'è questo? Ah Sono PBS Oh no Così vicino Rosa o pistola fratello? Ah Cos'è quello? Smettila di sparare Ah 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 Impossibile. Scarte. Le mie gambe. L'ultima. Vado per primo. Mio Dio. Wow. Scegli me. 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 Oh mio Dio. Scegli me. Scegli me. Lui è cattivo. Ti scelgo. Sì. Uè 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 uè. No. Wow. Dove siamo? Puoi aiutarmi a scendere. Wow. Per favore buono. Fammi vedere cosa hai fatto. Hai hackerato molte persone. Aspetta. Questo è davvero brutto. Il prossimo. No no no. Stava picchiando il suo ragazzo. È vero tubers? Sì. Mio Dio. Smetti di mentire. Sei una cattiva persona. Ultimo. Non riusciva a smettere di irritare. Ok questo non è male ma sei comunque cattivo. Ciao. No. Metti mi piace e iscriviti prima che quei robux spariscano dallo schermo. Oh ciao. Dove sono? Mostrami le tue azioni. Stava rapinando banche. Amico. Restituirò i soldi. È troppo tardi. Mostrami la prossima cosa. Amava Harley Quinn. M. Va bene. Lo amo. Mio Dio è bello. L'ultimo. Stava picchiando i prepotenti. M. Ero buono. Dammi i tuoi soldi. Oh hai cercato di aiutare. È una cosa buona. Adoro questo lavoro. L'ultimo il più difficile. Ah povero. Cosa sto facendo qui? È il giorno del giudizio. Ti pagherò. Faceva il bullo ai poveri Bacons. Fratello perché hai fatto questo? Amo i soldi. Prossimo. Stava scorreggiando addosso alle persone. È disgustoso. Mi dispiace. Ok. Non è male. L'ultimo. Non usciva perché era odiato dalle persone. Non è male. Eri triste. Vai qui. Ah. Gran giorno. Ok. Penso di poterti dare un'altra vita. Davvero? Un nuovo bambino. Mi hai adottato. Sì. Mostrami le tue abilità. Questo è troppo grande. Sei devo. Bambini. Ho avuto. È stato così vicino. Perché mi trovo in questa situazione? Di notte. Prendiamo vendetta. Papà sta dormendo. Muscoli. Oh mio Dio. Ecco il suo cervello. Odio questo bambino. Sta cercando di prendermi a calci. Distruggerò i suoi muscoli. Ho perso tutti i muscoli. Eventually. Il mio compleanno dammi i miei regali. Un libro. Per te. Wow. Sembro grassa per te. Il mio tumo. Ho trovato un fiore. Per te mamma. Cattiva. Ehi controlla la tua altezza. Va bene va bene. Io per primo. No. Perché? Sei troppo piccolo. Mio Dio è il mio turno. No 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 no. No per favore. Aiutami. Invio potere a bocca. Cosa? Come? Perché? Ah. Puoi andare. Ho potere. Non può essere così. Oh no. È il tuo momento. Sono bloccato. Fa male. Non è ancora finita. È abbastanza. Devo sollevare. È difficile. Dargli poteri divini. Wow. Ho le mani. Ah. Funziona. Sembro fantastico. Oh no. Ah. Lasciami provare il mio potere. Wow wow. Ho un potere incredibile. Oh. Cosa sta succedendo? Bulli? Fratello. Non sono tuo fratello. Qui è il tuo posto. Prigione. Per favore no. Per favore no. Ah. Cosa è appena successo? Wow. E si ricomincia. La persona che perde non torna mai indietro. Cosa dovrei scegliere? Prossimo. Sei un principiante. Sto scegliendo i beni. È ora di giudicare. Catturava i criminali più ricercati. È fantastico. È stato licenziato dal lavoro. È stato licenziato. Oh no. Ma non è male. È stato arrestato e ha formato una gang. L'ultimo ha formato una gang lol. Ma va bene. Chi è il prossimo? Figlio. Per favore. Ero buona. Mio dio. Mamma. Mai. Ciao. Ciao. Ero buona. Ciao. Ciao. Ero buona. Ma. Fratello. No. Era colpa di questa scivola. Sì. Lo stiamo chiudendo. Era troppo pericoloso. Sono triste. E solo. bambini volete giocare cosa no noi ti odiamo tuo fratello è stato posseduto venite con me no questo è proibito a un cosa è morto omg devo provarlo di nuovo ok andiamo cosa sta succedendo devo correre veloce ehi ragazzi volete provare la nuova scivola venite veloci devo vedere cosa sta succedendo aiutaci gatto omg ok li ha distrutti devo fare qualcosa facciamo il peggio prendendo la direzione sbagliata ehi 4 a perché sono così piccolo aspetta non ha fine o non posso fuori voluto rossi per aspetta non posso cosa è successo chi ha chiuso questo questo non è normale devo chiamare la polizia adesso aspetta chi è quello per favore aiuto dove sono nessuna via d'uscita devi scivolare ma devo scivolare questa è la punizione per chi va da la parte sbagliata devo scivolare questa è una scivola prebita omg spero di sopravvivere metti a mi piace a iscriviti se non vuoi scivolare su questo le mie ossa sono tornato la scivola è normale e cosa è questo omg devo fare pipì veloce sono in sedia a rotelle devo provare un modo diverso prossimo prova taxi ok questo è troppo non posso rischiare la mia famiglia chi sei devi aiutare fratello no non aiutarlo ume stanno combattendo lol scelgo di aiutare il fratello cosa è questo devo entrare è tutto per il mio fratello devo correre non entrare omg cosa ho appena fatto è tutto per il mio fratello devo correre sono troppo piccolo oh mio dio dove sono devo ucciderne uno per favore non uccidermi ero povero e nessuno mi voleva non uccidermi ti amerò se scegliessi lui sarebbe male tu bes besos bambino bello ti darò robots un bello ti farò ridere wow questa scivolata è spaventosa cosa dovrei scegliere wow squid game ci piace sono morti denaro o bambino denaro sto scherzando cane o gatto gomma da masticare o exe come cosa pipì o cacca ha bra iai ce l'ho fatta raccogli tutte le chiavi per aprire il cervello penso che ci sia il mio fratello devo raccogliere le chiavi ma dove voglio hackerare tutti voglio essere il miglior hacker e voglio stare con roblox wow questo è il cervello di jenna e la chiave prima chiave amo mangiare la pancetta voglio stare con jenna voglio riavere la mia famiglia in realtà sono buono non sono una persona cattiva wow tu beso è carino ho fatto la zuppa per te 1 grazie voglio essere ricchissimo voglio bandire pop tech da roblox voglio uccidere tutti gli hacker lei è mia moglie bello oh mio dio sono nel cervello di roblox spero che mi dia starcode oh ciao dove è la chiave grazie ok posso uscire adesso here we go again cosa è successo a questa diapositiva i bambini vanno via ok aspettiamo la notte ok andiamo oh mio dio è vivo entriamo sono spaventato aspetta vedo qualcuno è jenna questo è inquietante mister beast jenna te che? fratello guardati dietro cosa? non può essere vero non può essere vero dove siamo? eh? what is that? coriamo veloce devo trovare una via d'uscita e few minutes later ok finalmente abbiamo trovato una via d'uscita ma ora dobbiamo distruggere questo sì questa è una bomba sai cosa fare? cinque quattro tre due uno vai omg ce l'abbiamo fatta cosa è successo alla mia scivolata? cosa? hai costruito questo? sì e ti distruggerò ah oh oh oh